Sono venuto perché mi fa male la testa. Il dolore è cominciato due settimane fa, non ricordo più come. Così, di punto in bianco. Ma mi ricordo che la sera prima avevo... E questi dolori durano tutto il giorno? Per lo più la mattina. Al risveglio. È vero che quando mi alzo ho mal di testa, ma... Quindi al risveglio soprattutto. Sì. E i dolori sono da una sola parte? Davanti? Dietro? Questo dipende. Da cosa? In generale sono davanti, ma ecco... Davanti, dunque? Sì. Soprattutto davanti? Sì. Molto bene. Ora facciamo una visita. Non si accorge che insieme alle domande dà anche le risposte. Nicola, non ti sei sentito condizionato? Che cosa volevi dire alla dottoressa quando ti ha interrotto la prima volta? Perché tu hai detto... I dolori sono cominciati due settimane fa. Non ricordo più come, ma mi ricordo che la sera prima... avevo... Avevo... Beh, avevo cominciato la nuova cura per il diabete. Bene. Vieni, ti risito. Lo sapeva che un medico interrompe il paziente in media ogni 22 secondi? Il segreto è lasciarli parlare. Il 90% delle diagnosi gliele dà lo stesso paziente. Sì. Bene. 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 Bene.